guarda maschiandoci ma te hai già saltato? adesso io devo saltare su 5 minuti con il danno in questo modo la metà come entra in servizio con due operatori ma che andrà a prendere da mangiare nessuno è secco e allora? 5 quinti ma gli operatori in servizio? oh grazie ci sono tanti ah perfetto acqua mi muto che io starto da 5 minuti mi smuto parliamo in game al massimo si user joined your channel si qualche collega è disponibile per una battuiglia no che no attendi i ragazzi della rapina dove stanno? dove stanno i ragazzi della rapina? in assistenza e quando avete finito e siete a posto andate a prendere il ragazzo che è in questura ma mica non so il radio avg? o in arriva nyx ma stai live? si ah ma l'ha niente ci sono in questo canale vabbè scrivigela direttamente poi saleg vabbè 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 te l'ha detto Ferri che sono scomparse delle cose dal deposito? si me l'hanno detto eh ok ma sappiamo chi è stato? eh lui si però mi sa di che c'entra qualcuno che se le allora in teoria bisogna bisogna vedere chi mi ha detto sta cosa proprio non so se è vero o meno dopo in caso ne parlo e vediamo si va bene eh eh capa valutate poi fatemi sapere user joined oor channel t t t t t t t t t m mm 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 Comunque non m'è sentito che c'è non m'è perso che stanno litigando Bandana Disponibile eh Disponibile eh Disponibile eh Psst 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 Ripetere Psst 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 Ok posso. Tecnonale sto ospitando Jimbo. Bravo. Pubblicità per ciavolo. Eh, bellissimo. Poi tra l'altro Sim The Torerno. Certo. Stiamo qua a fa' No, andiamo anche a basso Psst, eccomi Ma dove stai parlando? Ferry Allora, qui la volante Finisce in uscita per controllo Allora Psst, non, non guarda Allora 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 Tu? Eccomi Stai parlando qua? Si, aspetta Non sto capito il caso sta parlando Ferry Secondo solo e vengo subito Allora 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 Ti è sparito Io? Ti è sparito Perché è sparito? Mi senti? Si, adesso si Allora 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 Va bene Va bene No, Andre La vita como sta effettuando un controllo al punto raccolto della maiona Psst Psst Ricorda Il nuovo attivamento I uomo tormentone delle salule Grazie a tutti. Aul, se è vero è tuo? No, tu non contesti un cazzo. Che senso? Eh, storia lunga. Come stai Rick? Dove stai a giocare? Al cavallo? Che c'hai? Sì, ho capito, ma se hai giocato con giochi da qualche parte, che stai a fare? Minchè, ma stiamo andando proprio in un punto caldo, eh? Sì. Pazzo, proprio così. Bene. Attenzione, allora. Allaccio la cinta, va. C'è nessuno, no? Stiamo andando a allacciarci la cinta. Vuoto. Vediamo altri punti. Quattro, due, due, tre. Ah no, è questo. Ok, niente. Ah, sì, è questo. Questo. Dove andiamo? Io facciamo controllo, possiamo passare oggi. Sì, per sicurezza. Ma se non metti gps, io non so dove andare. Ah, certo. Non lo devi più. Eh beh, che sono la tua, del punino, grazie. Bella jack. Ok, andiamo. Che cosa abbiamo qui a questo punto? Eh, boh. Ah, bene. Trova sorpresa. Sì. Bene, bene. Non c'è da tu sapere. Ah, bene, bene. Ora andiamo e lo scoppiamo. Magari troviamo anche gente. La nostra storia che va a farsi bene a dire. Raccolta marijuana bonita, ci spostiamo in zonate bruttina. Psst. Fa sotto la galleria, mi hanno detto. C'è scritto. Allora credo. E qua forse, vediamo. Galleria io non ne vedo, sincero. Cioè, non mi sembra un posto da galleria. Forse è qui sotto al ponte, eh. Eh. Fermati, 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 torno indietro. Qui dentro? Eh. Arma in mano? Non so cosa sia, eh. Io non sono mai entrato qua. Ah, curioso, sinceramente. Bene. Non si può entrare. Volevo venire avanti con la macchina. Sì. Ah, sì, scedo, eh. Questa di qua. Questa di qua. Ho visto questo? Ah, eccolo qua. No, questa è una vendita. Vendita, ok. Allora andiamo. Andiamo qua. Ok. E non lo so, Jakob, tu boh. Ok. Qui è zona portuale, giusto, tipo? Qua se non sbaglio ci sta un processo. Se non erro. Giusto? Mi senti? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok, ok. Ti sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe. C'è un'altra cosa che c'è il furto. Dimmi, cos'è che mi hai chiesto cosa c'è qui? Eh, sì. Allora, al... Qua so che ci sta anche una zona di spaccio un po' più indietro. Allora, al 100002 c'è il furto del veicolo. Ok, io so chi mi ha avanti. Eh, esatto. Se... Eh... Le... Le soldi sporchi, roba del genere. Eh, esatto. Qua in queste zone qua. Io so anche che ci stava una cosa tipo... Droppa di marijuana, ma non so. Forse saranno i soldi sporchi. Comunque non l'ho visto nessuno. E siamo anche in controumano. Andiamo. Ok, non c'è nessuno. Qua è vuoto. Allora, al 100003 e qua sotto sarà... Eh, sì. Ma io... Eh... Qua dovremmo fare un giro al 100.063 circa, in queste zone là. Questa? La vista? Ma vedi come scappa? La macchina. C'ha visto. Vedi? Cosa? Spenga il motore. Ecco. Ma tutto lui. Può... Può salire in macchina? Ai, ai, ai. Ecco. Spenga il motore. Ho spento i fari? Sì. Ok, tanto. La vostra ho spento. Salve. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sì, che... Salve, mi dà patente e libretto e è un piacere. Esattamente. Sì. Ok, il signor Federico Rossi. Attenda un secondo, eh. Sì. Sì. 21, operativa. Ecco. 21, perfetto. Mi fai un controllo? Psst. Mmm. La 21 è degraudata. Psst. Allora, dalla 21, richiedo un check di tutte le battuglie. Psst. Psst. 21, dalla Beta Como. Psst. Bene, Beta Como. 21, mi fai un controllo di nominativo, gentilmente, se riesci. Psst. Sì. Un attimo solo. Psst. 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 Due operatori per 0,11. Psst. Da Como, comunica. Federico Rossi. Psst. Psst. Attendere. Psst. 5,05. Mi è nascita a bombare i colpi. Psst. 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 Afermativo precedenti. Psst. Psst. Allora, come arrivati, dalla 21 abbiamo un porto di veicolo. Psst. Siamo in standa parte di veicolo. Afermativi precedenti. Psst. Psst. Sott. dell'import export che la siete qua vicino il 22 giugno era anche qui per per l'import vero che immagino va bene ma da piano la prossima volta e non saliamo si vuole così appena ci vede si si rd immagino a rivederci so qua ora saltarne uno dico io la vita como riprende normale servizi adesso io volevo farmi questo giro appunto al 10.085 10.063 che dicono che c'è zone un po' malfamate però niente di certo me hanno messo in sto punto che si trova messo ok allora andiamo a lei dai devo che provo a girarmi giriamo a qui il turno della beta como 21 dalla beta como 21 dalla beta como user in your channel time down dai ti va più forte diriggia eh voglio dicono ci stai user in your channel time down ah ho appena timbrato già andato per il caffè si avrà lasciato la vostra azione poi mi fa 21 operativa ti dico ah buongiorno tornata non ho ieri a doppia vera 21 operativa ecco non ci sono persone dell'aci oh sostituiamo un attimo ma fate una maniera no ma devi entrare a corri vediamo se c'è staffer in giro sono solo io ah si stavamo solo io e te io sto in live quindi mi sa che è impossibile che io vada a mettergli a posto la macchina la San Paolo si ferma davanti di gara centrale per un incendio K quando finite le indagini quando è ora di chiuderle che senso ma ha scritto uno uno gli ha scritto quando finite le indagini chi è aspera chi è come si chiama beh figurati chi è Joe no no che cazzo ma cosa fa i cazzo suoi eh vabbè De Luca è ah è De Luca è De Luca grazie al cazzo io lo gli ero De mi sta scrivendo in live ah proprio così proprio scialla ma chi è un modo De Luca che cazzo è De Luca è quello che abbiamo arrestato l'ha puntato ah perfetto le rapine aspetta un bel processo è più o meno una cosa di massimo una settimana se tutto va bene se tutto va bene ma mi raccomando fa meta lui è un esperto a uscire dalle celle della questura lo sai è un mago tre volte l'ho beccato fuori oramai guarda che se faceva un frontale ne prendevi tante ma ne prendevi tante anche perché poi come tornavamo in questura eh raga sono l'unico staffer e io sono in live e mi stanno chiedendo staffer sulle parti 21 da campanile Sì, se li vede in cazzo Dimmi il tuo ID, Ferri 1-3-5 Sei andata là? No, no No, questo è l'altro gruppo Psst, Paolo Sì, ci servirebbe che ci sono attaccati i medici per un incidente a 80-53 Psst 80-53, lo so, giusto? Cazzo, madonna Grazie Ma che ci sta? Libero Beh, direi Niente, adesso puoi andare dove vuoi Posto E ora siamo da qua, direi Cazzo, è... Cognicidio, è nulla Ok Guarda che l'hai scritto nel gruppo sbagliato, Vale Ah no, è il gruppo tutti insieme No Per l'altro Eh Eh ragazzi, come faccio di registrare l'auto? Sto chiedendo ad altri staff se entrano in gioco Io sono in line, abbiate pazienza di me un secondo Vale, poveretto, appena uscito d'oggi pomeriggio Un po' come cazzo è andata una volta E' quello, eh Sto mangiato, la gente ha mangiato il po' User joined your channel Siamo intorno a ventana O la vuoi A me non ha senso, cazzo, giramo intorno Andiamo a sinistra, va Ma dammi un po' un'altra coscia Ed è un po' un po' un po' un po' un po' di tour www.mesmerism.info Mi piace cercare questa mafia dei calabrese stanno, una cosa incredibile, hai visto? Una giornata che va avanti sta cosa Ma se c'è posto eh , lo che ringrazio lato Amor Già, sta a posto. Avanti, bentornato. Alla vostra posizione? 10.89 La sterrata sta aumentando, porco giuda. Per il trasportatorio alle vostre caserme siamo in 50, 6, 120. Per il trasportatorio alle vostre caserme. Questo è il fio del qualsiasi. Questi sono aggressivi questi. Stai attento che tutte le parti che c'è stato io, il punto del Vodgingo, Gimbra è la prima cosa per morire. Anzi, le cittadini, che è perfetto. Sarà che ci vengono di quelle delle altre. Strada. Un'ora che vogliono fa... Hai visto? Sì, sì. Ah, sì. Eh, niente. Oggi piove, niente partire le palle a volo. Shadow. Psst. E' avuto un intervisto. Ma io non ho capito se da me sta piovendo. Oh, no. C'è al sole. Piazza. 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 Eh, che cazzo, quanto è veramente più l'acqua della varse a cura, Non hai capito perché se piove almeno così la gente fa gli incidenti. E così va alla stavaglia. Di lavoro. Un certo. Psst. Da San Paolo torna operativa. Psst. C'è avuto. Blazia s'è. Psst. Purace segnoiaiaiaiaiaia. Nonono, io nonono... Nonono, ma raglostrivo una da via. Grazie a tutti. 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 Tutto a posto? Tutto a posto? Andiamo, se ne va. Andiamo, andiamo, fermi. Andiamo, andiamo, andiamo. User left, user left or channel. Andiamo, andiamo, andiamo. avanti t온ipi, come se non avanti. Voi west, andiamo. del vanilla in su della città vado a capire 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 avanti la vostra posizione allora ci stiamo portando al 100001 per una segnalazione sul giornalino bene ricevuto no user left your channel wow wow no 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 cazzo ricordo cercando è proprio così sciolo sì ho chiamato di dicevi e li compiti uno, un secondo ma è giusto ma qui era rotta no no era giusta oddio che è successo che cazzo è tu che sei sono io che sono fumato mi sa fatti pop indietro che si passa sto cretino vai passa dai passa ma i vigi del fuoco stanno arrivando è in realtà in quarta d'ora che abbiamo chiamato ma questo sta curando la prigione questo è scemo arma polizia ristato in l'anatici a nostri user in the channels time down guardate noi stiamo in borghese con una p.m. buoni da male ok ma mi sa che sono esplosi guarda guarda che stanno sotto i mongoloidi deficiente ma egli ho anche detto deficiente deficiente no quello no non dico il fuoco dalla polizia di stato questo mongole di forte non facendo no no cosa sto vedendo la presenza la città sono saliti sono salita collina sti grandissimi intelligenti ecco siamo su un grande rapporto siamo in auto siamo sul ponte e qui vedo magari se vi stanno con una mano per favore tutta la comunità mannaia a lui mannaia ma non so che tu sia su discord dimmi come ti chiami su discord e poi ti sbanno se non hai fatto niente di particolare andato via qui a mai dimmi come ti chiami su discord vediamo forse c'è anche qualcuno non lo sappiamo dentro non abbiamo idea che c'è sempre sto ritardato dell'allievo 21 dalla vita 21 quando la chiami te 21 dalla beta como dica c'è il 18 da ps 118 dalla polizia di stato c'è nessuno si non vedo nessuno forse sarà vivo ed è scappato è stato alla fuga forse aspetta da qualche parte sta cerchiamo rilessere su chi lo ti faccio sapere bagna 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 dell'auto va che cazzo vuoi eccolo la vabbè andiamo ok ho salvato il mio bambino Grande Giulia Per aver donato 300 bit Grande Giulia E su altri 600 Giulia dai Altri 600 Giulia Altri 600 Dai Giulia Dai Giulia Sì lo so Rilessi Ho chiesto Vediamo Ragazzi fate tutti come Giulia Tutti i bit che avete donato Io non vi ho abbandonato ragazzi Grande Giulia Ecco stavo guardando Giulia Mi ha donato 600 bit Dai Giulia Altri 600 E' tombola Siamo a 900 bit Giulia 100 e arriviamo a 1000 Fermati Torna indietro che gli hanno rubato il camion di vinci del fuoco Non fa sapere Radio stanno parlando una mezz'ora porco Giuda Ah io sono radio 3 è vero Sto rompendo i coglioni questo Dimmi che radio eh C'è dimminti La posizione E dove eravamo prima Credo che ci siano capiti Pss Io non ho capito Cioè ti hanno rubato il camion Grande Giulia 1000 bit C'era una C'è una persona Dentro quell'auto che è bruciata C'era una persona Che non so dove si ha comparsa Ma poi alla fine è comparsa Eh ho capito Pss A qualche punto C'era una persona all'interno Chiuderebbe a pace eh E' iniziato a scappare Pss E qual'è il problema? Pss No che voi volevate sapere se c'era una persona all'interno dell'auto Minchia ma ha rotto i coglioni in mezz'ora per fare una comunicazione del genere Va bene grazie mille gentilissimo Buon lavoro Pss Mannaglia la madonna Abbiamo la macchina rotta mi sa Infatti io sognavo in case in questura ti devo staccare urgente Tranquillo ma ho chiuso anche gli occhietti B Figlia di po' Dio Aia Aspetta Porco Giuda Mi sa che questo non ce ne muoviamo più eh Avanti beta combo Dai un attimo abbiamo un attimo incidente Allora volevo avvisarti che la beta combo sta facendo un ritorno in quest'ora per fine Il servizio mi dissocio apertamente No no Stavamo a quest'ora Via Ragazzi grazie mi Ciao dirigente Comunque c'è la divisa sbagliata Eh lo so Vabbè Ciao ragazzi grazie per essere stato in live Ci vediamo domani